Via Libera è il progetto di riqualificazione urbana denominato Area Porta San Giovanni. Il progetto approvato dall'Aggiunta Comunale include le aree dell'ex macello, dell'ex autoparco, l'area del mercato ortofrutticolo e quella della stazione ferroviaria. Una grande riqualificazione urbana dell'ingresso principale della città, sottolinea il sindaco di Eboli Massimo Garillo, che garantisce spazi, decoro, servizi aumentando la fruibilità delle aree per i cittadini. Il Comune punta alla realizzazione di un ingresso alla città riqualificato e con importanti novità per Eboli. Il Comune di Eboli interviene rimodulando i progetti di embleanto l'area di interesse degli interventi di riqualificazione, ricorda il Presidente del Consiglio Comunale Fausto Vecchio. Mettiamo in campo un'ampiazione di intervento sul territorio che riqualifica l'intera area ed assicura servizi, abitazioni, locali commerciali e spazi di sossa indispensabili in quella parte della città. Verranno superate anche difficoltà inerenti al PUC, sottolinea il Delegato dell'Urbanistica Mario Domini. L'intervento è steso ad altre aree pubbliche attraverso un unico progetto di riqualificazione urbana dell'ingresso di Eboli. L'incarico di redazione del progetto di riqualificazione urbana, annuncia il Presidente della Commissione Consigliare per l'Urbanistica Pierluigi Merola, è stato conferito alla Struttura Tecnico Comunale, che si occupa della pianificazione territoriale, già dotata delle necessarie professionalità, anche attraverso un concorso di idee che definisca sia l'opera architettonica che la modalità attuativa, cioè finanziamento pubblico o project financing.